I cavi che hanno un'estremità OMI e l'altra VGA non funzionano perché le tecnologie digitali sono diverse e incompatibili. VGA è uno standard analogico, mentre OMI è un'interfaccia di comunicazione digitale. Di conseguenza, per effettuare un collegamento da OMI a VGA, serve un convertitore di segnale. Questi cavi servono per eseguire il compito inverso, cioè da VGA a OMI. OMI è un'interfaccia di comunicazione digitale.